Sono Anselm Gerhardt e ho avuto il piacere di venire tante volte a Cremona, alla facoltà, oggi il Dipartimento di Musicologia, in un Erasmus molto attivo che abbiamo messo su piedi fra l'Università di Berna in Svizzera e Pavia una decina di anni fa. E sono stato sempre impressionato dalla ricchezza degli ingegnamenti e dalla ricchezza delle persone, delle studentesse, degli studenti presenti lì a Pavia che ritengo oramai il primo polo musicologico in Italia. È stato sempre molto bello vedere, sentire, ascoltare che gli studenti vengono veramente da tutte le regioni della penisola.